ciao a tutti ben ritrovati nel canale l'angelo vi ricordo che sono video riservati ad un pubblico adulto maggiorenne il gioco può causare dipendenza patologica quindi è meglio non giocare video dimostrativi quindi se dovessi vincere in questa partita sappiate che nel lungo periodo appunto nel gioco si perde un abbraccio a tutti l'angelo allora ancora sevesan proviamo la giuraxic stallo a 60 sempre sanremo chiesa 40 euro cambiati o per vuote insomma solite cose che ho già detto anche negli altri video saluto marco locci dalla sardegna ala il paesano insomma saluto a tutti benissimo Grazie a tutti. Una vita da nove, vediamo un po', di solito li mangia, seconda vita, è andata giù. Stallo a 60, dicevo, le Crystal Tech a 70, sono le uniche due case costruttrici che hanno lo stallo. Se ci sono le false partenze ce le prendiamo perché sennò andiamo a perdere e possiamo almeno con le false partenze limitare le perdite ovviamente. Il bet non influisce, 25 o 50 o un euro, vabbè. Sennò sempre gugite. Un'altra negativa fino adesso come vediamo. Sto andando via già a 40 euro. Sto andando via già a 40 euro. due vite per adesso tre vite se ci tiene adesso con la super vita c'è lo stallo quattro vite allora probabilmente non è sicuro il 100% un 80% che c'è lo stallo vediamo perché è a 20 deve superare i 20 ci proviamo perfetto ce l'abbiamo fatta vite e super vite bellissima partita amici vite e super vite le vite quando vogliono colpiscono e già sappiamo dello stallo dopo quattro vite era dato ora vediamo cambiamo anche gioco andiamo su il bufalo rosso a do per vuoti vedete che vuol dire quando i soldi non vanno giù la cosa migliore è quella che può essere già appunto in pagamento va bene rischiamo ok ok ci ha zerato vediamo adesso perfetto quattro quattro può essere un altro segnale positivo vediamo 23 subito il 3 può essere un'altra partenza per lo stallo ci ha zerato proviamo ancora 23 ancora pagata superiore a 10 quindi però non vogliamo fare la fine dell'altra volta questa è una scheda nuova ovviamente niente non ci tiene non ci temerla non ci temerla ok ok pagiamo ancora 10 esse è un po' altra possibilità forse che sta partendo subito e può essere buono di solito vediamo sempre a 60 dobbiamo arrivare forse questo stallo ancora non ce lo vuole dare sui 49 e ci ha zerato si potevano prendere ovviamente sempre per dovere dimostrativo e per non far durare il video pochissimo sono andato avanti ma comunque la slot può comunque ripartire questo certo però è meglio quando parte subito in modo che non vi fa inserire di nuovi soldi ancora 10 poi al limite l'abbandoniamo non 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 vedete a volte queste pagate superiori a 10 a 11 spesso volentieri non significano più niente rispetto a prima soprattutto su queste schede nuove quindi gente amici io ti metto ancora gli ultimi 10 giusto per e poi direi di salutarla non abbiamo perso quindi va benissimo vediamo se riesco anche a ripartire voi ovviamente se arrivate a 49 in quel caso poteva si potevano prendere ripeto io non l'ho fatto perché per dimostrare poi abbiamo visto il 7 sun di questi due giochi giurassic e il bufalo rosso quindi ci aggiorniamo amici al prossimo video è andata bene non ho perso in questa sessione di gioco mi raccomando sempre meglio non giocare ciao a tutti un abbraccio da angelo grazie 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 grazie